Torna al completo la squadra assessoriale al comune di Sant'Agata Militello. Nell'aula consigliare ha prestato giuramento Melinda Recupero, 39 anni, avvocato ed insegnante. La Recupero erediterà parzialmente le deleghe attribuite a Maria Caramela Trovato, della quale ha preso il posto dopo le dimissioni dello scorso 25 marzo. L'esperienza fatta alle amministrative del 2013 mi hanno permesso, appunto, con la collaborazione del dottore Natale e in consiglio anche del consigliere Maniaci di portare avanti nel corso di questi anni un percorso fatto di grandi progettualità con una chiara identità politica che è quella del megafono. Il mio impegno sarà quello di portare avanti le idee e i progetti del mio gruppo politico con la collaborazione dei consiglieri comunali che oggi appoggiano l'amministrazione sottile ma comunque fiduciosa nella collaborazione dell'intero consiglio comunale. Oggi quindi era naturale che venisse ricostituito quello che è il premio dell'aggiunta per poter procedere poi alle successive deliberazioni. Avviene con un rappresentante della lista megafono. La nomina della Recupero è stata sponsorizzata dal consigliere Enrico Natale che torna in appoggio al sindaco lasciando la posizione di indipendente e dal consigliere del megafono Caluggerino Maniaci. Questa mia volontà di prendere parte attivamente al gruppo del megafono l'ho più volte espressa nel passato al presidente del parco Antoci e oggi si concretizza. Con l'assessore Recupero spero di poter mettere in campo direttamente il mio impegno nei limiti di quello che sarà possibile fare, cercare di dare un segnale positivo alla cittadinanza. Abbiamo registrato nel movimento il megafono l'adesione di una componente forte che è il consigliere Enrico Natale e quindi insieme al consigliere Natale abbiamo ritenuto di condividere un nominativo in quota megafono da offrire al sindaco come nostra rappresentanza in giunta. La nomina della Recupero ha però agitato le acque all'interno della coalizione. I consiglieri Carabotte e Sberna hanno presentato una dura nota con la quale chiedono l'azzeramento della giunta. Anche il consigliere Rita Fachile starebbe meditando la fuoriuscita dal gruppo PD. Grazie a tutti.